Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. I ragazzi stanno per iniziare la seconda parte del loro percorso al collegio. Il preside è pronto a pronunciare il suo discorso di inizio settimana. Seduti. Grazie. Buongiorno collegiali. Buongiorno. Signorina Comelli, come sta bene con quel colore. Grazie. Colore che le abbiamo tolto e trasferito sull'abito della signora sorvegliante. Molto, molto radiosa. Grazie. Complimenti. Mi faccio cambiare anche il signor sorvegliante perché altrimenti tutto nero. E mamma, diamogli un bel vestito rosso con le paillettes come si usano negli anni 70. Volevo innanzitutto complimentarmi con voi che avete ottenuto la cravatta con lo stemma del collegio. Bravo. Grazie, grazie. Nei prossimi giorni avrete una gioia che è quella di fare la prima gita con il pernottamento sotto le stelle. Non vedo l'oggi uscire da sto collegio e non andare ad Ostia, là in mezzo ai pezzi di cemento. Ero in un posto più tranquillo. Chiudo con una comunicazione importante. Come sapete, il nostro malgrado, nelle settimane che sono trascorse, abbiamo dovuto allontanare alcuni studenti. Lei è espulso dal collegio. Che hanno mantenuto dei comportamenti disturbanti. Lei è espulso dal collegio. Per cui si sono liberati dai posti. Signor sorvegliante. Oddio, oddio, oddio. Grazie. Ora arriva una femmina buona, single. Ah, finalmente. Poi. Due maschili. Che bei capelli. Quanto roba. Come è? Sono grandi queste solitane. Ma chi ne ha davvero? E tu chi sei? Signori genitori, buongiorno. Buongiorno, benvenuti al collegio. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, signori Cresta e signor Palazzo. Si presentirei, signor Palazzo. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo Matteo Palazzo e sono franco italiano. Tres bien, como cava, e come si, come sa. Basta. Benissimo. Signor Cresta, prego. Sono Davide Crasta, ho 17 anni, vengo alla Sicilia. Spero di divertirmi con voi, fare amicizia con tutti. Sicilia dove? Messina. Lacrime, lacrime. Davide è di Messina, compaesano. Bellissimo. Magari cominciamo a levare gli occhiali così la vediamo. Ah, ecco, agli occhi. Per cominciare, voi dovrete compilare una domanda di ammissione e fare un colloquio con me. Dopodiché, se tutto andrà bene, entrerete oggi stesso a far parte del nostro collegio. Ci vediamo fra poco, grazie. Grazie. Arrivederci. A dopo. Allora, prima di lasciarvi, vorrei farvi un regalo di buon inizio per questa seconda parte del vostro percorso in collegio. Sono arrivate le lettere dei vostri genitori. però ci vediamo. Grazie mille. Grazie a tutti.